La mia città è così spenta, senza anima, senza vita, senza luminarie per Natale. È una vera e grave tristezza. Che si può fare? Che si può fare? Mario, chiamo il Mario di Arco, che forse viene a darci una mano. Pronto? Mario? Ehi Mario, fammi un piacere, vieni a dare un'occhiata a questa bella città, è triste, triste, triste. Abbiamo bisogno del tuo aiuto per qualche luminaria, qualche luce, qualche gioia di vivere in questa città che è così spenta. Puoi fare un salto a riva e darci una mano? Ciao Franco, ciao. Ci ho parlato di telefonata, è un po' freddo però stasera. È un po' freddo, però la tua presenza dà calore. No, no, l'è freddo. Allora, noi abbiamo cercato di mettere insieme una squadra, però insomma non è facile. Anche perché mi pensevo, ho letto nel giornale, insomma, Valotta, Grazioli, Zambotti continuano ad arrabbiarsi. E non aveva telefonato ieri anche al Mario Caproni, no? Sai che il vice sindaco l'avevamo mandato noi da Arco a vedere, ad imparare lui qualcosa. Però, dico, anche noi non è che avevamo una grossa esperienza, mi pensevo che ci ha messo il Lunelli, insomma, no? Però il Mario Caproni mi ha detto, guarda che Lunelli ne stai di qua, e dico che mette a posto, sai quei grigliati lì dei cantieri, non dove su tutti i disegni dei segantini che mi fanno un po' dei problemi. E allora non ho detto. Mi ho messo insieme una squadra, mi ha detto che gli è specialisti, ti fa proprio specializzare in adobe natalisti, luminarie e tutte queste robe qua. Adesso, Franco, andiamo a vedere cosa che si è a scominciare, perché, amico, telefona prima, mi penso che io dovrei essere a scominciare via. Ciao, come vede qui? Mi pare che sia un po' di rio, eh? Com'era qui? Com'è fente? Ben, ben, si andrei a montare le luci qua, queste luminarie nuove, e non c'è l'appalto noi, e anche oggi ne ha confermato l'appalto, e adesso iniziamo via. Ah, va bene. E' nuovo questo qua, l'atto su, perché nella tua squadra non l'ho mai visto. Che è questo qua? Mi sono messo nel secchi, insomma, sono stato su da lui, sono stato su da lui, e mi ha assunto perché sono alti, sono per quello. Sì, sei bravo a andare sulla scala? Sì, punto. E non è lì mi ha garantito che sei bravo. Ascolta, partiamo adesso dall'inizio qua del Viale, nel CISO, si aprena tutti i negozi, nel CISO, viene un cordone tutto colorato, e gira tutto intorno alla Viale Dante, e qui mi pare che lei è questo, mi pare che i mari così, il mari deve partire da chi? Comunque mi garantì che il lavoro deve essere, perché anche Franco Chemoli, vi ha detto, parlo col Mario, come se mi fosse chissà cosa, e poi non c'è una squadra di quei specialisti, ma dopo chi mette dentro anche qualcos'altro, un mezzo, solo luminarie, Gabbè, magari qualche Babbo Natale, qualche figura, insomma, di prestigio? Gabbè, abbiamo un Babbo Natale, e poi mettiamo una castella a cometa, e arriviamo fino a qui, il Carano della Rocca, e tutto lì. Ecco, allora, le luminarie le stanno emesse, Babbo Natale, l'è pronto? Che non dici? Babbo Natale è prontissimo, guarda, vedi che è bello, è più Babbo Natale dell'1, che ne è? Sì, però, scusami, ma è un Babbo Natale con la barba nera, non è che, scusa, eh? Basta, aspetti un par di ore che bruma la gava bianca decolta, tranquillo Mario, che Babbo Natale è a posto. Che speranza, magari, che fioca. Allora, è prontissimo a dare il via, pronti? 3, 2, 1, accenditi! Porco cane, che lavoro, Putei! Madonna, che spettacolo, che luminarie! E anche la stella a cometa! Propri bravi, bravi, bravi! Putei, bravi! Complimenti! Hai fatto un gran bel lavoro! Bello, 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 bello! Pare un po' di Luna Park, però, insomma, dai, ma di che dopo si può anche modificare, che è dentro la centralina, che ha diversi effetti da fare. Bello, anche la stella a cometa, proprio sotto il bastione, stella a cometa sotto il bastione. È una novità assoluta per tutta la zona. Allora, amici Telegarda, dalla Perla del Lago, proprio sotto il bastione, con la stella a cometa, da Telegarda, da me, dal... Ceci! Dal Beppi New Year! E da Dino! Tanti saluti e buon Natale a tutti!